Ciao a tutti e benvenuti al rifugio Miletta. Oggi vi voglio parlare di Pablo, un rappresentante della specie ovina che vive qui con noi da gennaio del 2015. Pablo è uno dei tanti orfani vittime degli spostamenti forzati delle greggi. Pablo arrivò in rifugio che aveva solo due o tre giorni di vita e a malapena si reggeva in piedi. Non poteva dunque avere la forza per seguire la sua mamma. Lo accogliemmo in casa cercando di dargli tutto il calore e l'affetto di cui un neonato necessita per sopravvivere e Pablo superò le difficoltà dovute al brusco cambiamento con coraggio e caparbietà. In breve si adattò alla sua nuova vita qui al rifugio. Vi ricordo che potete contribuire alle spese di mantenimento di Pablo cliccando sul link che trovate nella descrizione di questo video e che chiamando il 346 313 2222 potete prenotare una visita al rifugio Miletta per venire a conoscere di persona Pablo e gli altri nostri amici. Vi aspettiamo! Ciao!